La mia madre dice che sono nevrotica con i capelli Diciamo che ero castana normale fino a un mese e mezzo fa Un mese fa ero rossa e una settimana fa sono andata alla parrucchiera a dirgli fammi di nuovo un po' rossa E lui mi ha detto staresti bene bionda platino? Amore posso farmi bionda platino? Sì fai fai Bionda platino in 5 ore nella fiction ai capelli rosa per cui tanto per capirci Nella prossima serie sarà in verdi magari No nella prossima serie vorrei farli così mi piacerebbe però vediamo insomma In generale so che le donne cambiano spesso colore dei capelli e taglio Quando devono cambiare drasticamente un momento della loro vita è vero? Sì è verissimo io ho un momento proprio brutto mi sono arrasata a zero Per cui figurati tipo un soldato Jane con la macchinetta davanti allo specchio Però in quanto attrice io devo dire cerco di contrastare un'abitudine radicata nel nostro paese Che è quello di far fare agli attori sempre lo stesso tipo di ruolo Anche come look e come immagine sempre molto naturale Oppure se un attore sa fare bene una cosa gli si fa fare sempre quella Io diciamo che cerco di contrastare questa cosa partendo dall'aspetto Cercando di portare nella sostanza anche il cambiamento che propongo da un punto di vista visivo Ciao, Ghost News